Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess Oggi analizzeremo la partita tra il campione del mondo Magnus Carlsen e il grande maestro francese Maxime Vachelagrave Ieri hanno giocato un match della semifinale degli Speed Chess Championship di Chess.com E come sorpresa, sicuramente pochissimi se lo aspettavano, il campione del mondo è uscito sconfitto e quindi non si è qualificato alla finale degli Speed Chess Championship Quindi in questo video volevo analizzare la terza partita del match a controllo 5 più 1 Quindi 5 minuti più un secondo a mossa E dove c'è stato un momento critico del match, già da subito Perché prima della terza partita Carlsen stava conducendo 2 a 0 E come anche in tante altre partite Carlsen aveva una posizione superiore Ma il grande maestro francese è riuscito a scappare tantissime volte Facendo un sacco di punti in partite dove non avrebbe dovuto fare questi punti Di conseguenza sul 2 a 0 questa partita era molto importante Perché all'inizio è molto importante avere l'iniziativa proprio E quindi se continui a vincere anche se magari non allunghi troppo il vantaggio Ma magari facendo qualche patta e mezzo È molto difficile per l'avversario prendere fiato e riuscire a tenerti testa Quindi questa partita vediamo come è andata È molto interessante, ci sono tanti spunti Quindi cominciamo Il campione del mondo ha giocato D4 come ha fatto anche nella prima partita La sua idea era giocare questa sotto variante Contro la Grunfeld che è l'apertura principale di Bachelard E la sua idea era fare cavolo F3, C per D e cavolo P Qui la linea principale è E4, cavolo per C3, B per C3, C5 Dove il nero cerca di mettere pressione sul centro del bianco Ci sono diverse varianti qui E il francese diverse volte ha dimostrato che il nero qui ha un ottimo gioco Anche nelle partite contro Carson Per cui il campione del mondo ha scelto una linea rara come è anche normale fare in questi match Perché considerate che ci sarà un'ora e mezza di partite a 5 più 1 Un'ora di partite a 3 minuti più 1 secondo E una mezz'ora di partite a 1 minuto più 1 Quindi partite bullet molto molto veloci E di conseguenza quello che fanno i giocatori normalmente è scegliere una linea secondaria E cercare di vedere come cercava l'altro Perché se l'altro non riesce a trovare una risposta Probabilmente la potremo giocare anche per alcune altre partite Perché è difficile insomma trovare la risposta sulla scacchiera in mezzo alle partite A meno che non ci sia una pausa E a quel punto lì ovviamente possiamo chiedere ai nostri secondi Ce l'abbiamo o vedere cosa possiamo giocare O magari semplicemente controllare quello che aveva visto su quella linea Se non ce lo ricordiamo Comunque l'idea del bianco in questo match era donna a 4 scacco Nella prima partita Vashelagrava ha giocato caolo c6 E4 caolo b6 donna c2 E la posizione è complicata Qui era evidente che Vashelagrava non si ricordava cosa doveva fare Ha fatto arrocco E comunque il bianco poi stava sempre meglio Sembra che il bianco abbia giocato alfiere e3 G4 d5 e così via insomma Però il bianco sembrava che stesse un po' meglio In questa partita il francese ha fatto alfiere d7 Che sembra essere la risposta migliore Quindi evidente qualcuno gli è riuscito a dire cosa doveva fare Tra le due partite Dato che è un attimo e probabilmente ha molti aiutanti Che possono farlo E l'idea del bianco è fare donna a 3 Anche se questa donna non sembra essere su una grande casa Normalmente le donne degli scacchi vogliono stare comunque vicino al centro Da scacchiera o comunque controllare diverse case centrali Qui la donna in a3 potrebbe essere a volte un po' fuori gioco Però la casa a3 è tipica per la Grunfeld Perché visto che l'alfiere è in g7 Quest'alfiere non riesce ad attaccare la donna E quindi in a3 si trova relativamente bene Però vediamo com'è andata la partita Quindi il nero ha continuato con l'alfiere c6 In un mossa normale Il bianco ha fatto h4 Un altro problema davanti al nero Tipico gioco di Carson Che fa prima donna a4 scacco poi h4 Il nero deve prendere diverse decisi Ora la risposta secondo me più ovvia del nero è h6 Con l'idea di rispondere su h5 con g5 E rinforzando la nostra struttura sul lato di re Però evidentemente Maxim non ha voluto fare h6 Perché a volte la mossa h6 permette di Avere un obiettivo per il bianco E magari arroccare corto non sarà così facile Quindi Maxim ha fatto a5 Cercando di mettere in pratica i deme come cavallo b4 E sfruttando il fatto che questa donna in a3 stia male Il bianco continua con h5 Che è un'ottima mossa E qui l'idea del bianco è che su cavallo b4 Posso semplicemente fare donna b3 Controllandola a casa c2 Non si capisce cosa fa questo cavallo in b4 Forse più avanti lo potremo scacciare con la mossa a3 Di conseguenza il nero ha fatto cavallo a6 Volendo fare cavallo a b4 Ora ovviamente donna per a5 non avrebbe senso Perché dopo cavallo b4 Il bianco avrebbe la donna sotto e anche il doppio in c2 Quindi il bianco qui non mangia in a5 Ma decide di fare donna b3 Togliendo la donna e insomma preparandola a tornare Nella casa più normale Donna d6 L'idea del nero è magari preparare i5 Pur di contrastare questo centro del bianco Anche a costo di aprire l'alfiere Perché il bianco in effetti è ancora un po' indietro di sviluppo Il sorale è ancora al centro L'alfiere è ancora in f1 L'alfiere è ancora in c1 Certo il bianco sta cercando di sviluppare la sua torre d'h In maniera artificiale Però insomma non è una posizione semplice per il bianco Se il centro si aprisse Infatti il bianco qui mette in pratica una sequenza molto logica Che è h6 Fissando h7 magari E dando fastidio a questo alfiere in g7 Che non sa bene dove andare Non vogliamo tanto fare alfiere f8 Perché insomma Il nostro sviluppo sarebbe piuttosto difficile da completare Quindi il nero fa alfiere f6 Una mossa tipica E il bianco qui ha la mossa forte e4 Quindi prendendo il centro E ricordiamoci che questa partita è stata giocata a 5 minuti più 1 secondo Quindi i due giocatori stanno eseguendo queste mosse alla velocità della luce in pratica Però Carlsen ha visto l'idea Probabilmente che su cavallo per c3 Invece di fare per esempio b per c3 E perdendo e4 Il bianco ha la possibilità di fare l'intermedia e5 E ora su per esempio donna d5 Possiamo semplicemente fare b per c3 E si scopre che l'alfiere f6 non ha case E di conseguenza questo pedone h6 fa il suo lavoro E un altro dettaglio importante è che su alfiere per e5 Il bianco può benissimo giocare d per e5 E la casa d1 è controllata Quindi non ci sono problemi tattici Non c'è matto in d1 Quindi su e4 il nero non fa cavallo per c3 Ma fa a4 Questa è un'intermedia importante Donna c2 E adesso cavallo per c3 Ora il bianco poteva fare e5 Sarebbe stata un'ottima mossa Penso che quello che dava fastidio a Carlsen Era che ora il nero dispone della mossa donna e6 Che prima non poteva fare Nel senso che qui su cavallo per c3 E5, donna e6 Possiamo semplicemente mangiare E dopo f per e6 B per c3 Di nuovo il nostro alfiere in f6 Probabilmente fa una brutta fine Quindi tornando alla posizione della partita Dopo a4 Donna c2 Cavallo per c3 Ora su e5 Il nero può fare donna e6 In realtà dopo b per c3 Arrocco corto Alfiere e2 Sì il nero può fare alfiere h8 Ma la sua posizione non è sicuramente invidiabile Perché l'alfere h8 è pressoché morto Questa struttura centrale del bianco Questa bella catena pedonale C3, d4, e5 Difficile da contrastare Perché per esempio su f6 Possiamo già mettere in pratica delle minacce al re Oppure anche una mossa per esempio come c4 Minacciando d5 La posizione è praticamente persa Però evidentemente è difficile andare così in profondità Con così poco tempo E il bianco ha rimangiato in c3 E qui però il nero può fare e5 Cercando di combattere questo centro Ora Carson ha preso una decisione Che io sinceramente non mi sarei aspettato Nel senso che la cosa più naturale per me sarebbe quella semplicemente di sostenere il centro Con una mossa come alfiere e3 Forse quello che gli dava fastidio era il fatto che dopo e per d4 C per d4 Il nero dispone della mossa cavallo b4 E questo cavallo che stava male in a6 Adesso comunque può creare delle minacce In realtà dopo la mossa donna b1 Il bianco mantiene il suo centro pedonale Ed è molto difficile contrastarlo E forse più avanti potremmo scacciare il cavallo con la mossa a3 E il nero sta molto male qui In realtà Forse potrebbe anche essere passata per la testa La mossa donna b4 scacco e donna e7 Però come abbiamo detto questo centro è veramente troppo potente Per il bianco Non lo so Penso che la sua preoccupazione fosse cavallo b4 Ma quello che ha fatto qui Cassen è davvero una decisione difficile per me Perlomeno perché ha fatto alfiere per a6 E normalmente non è una buona idea Dare uno nostro alfiere così forte per un cavallo in a6 Che non fa veramente niente Però la sua idea è che dopo torre per a6 e rocco corto Il nero fa molta fatica a trovare una casa per il suo re Perché non può più arroccare lungo E se è a rocca corto Sappiamo questi problemi legati al pedone in a6 Inoltre il bianco continua comunque ad avere il suo centro sostenuto E quindi il nero a rocca corto ovviamente E qui il bianco ha fatto torre d1 Che è un'altra imprecisione Anche se non si capisce bene perché Però adesso lo scopriamo Sarebbe stato meglio fare d5 E queste mosse normalmente non sono granché Perché indeboliscono la casa c5 Però il bianco qui è in tempo A fare c4 E probabilmente riuscirà ad avanzare il suo centro C'è da dire che ci sono anche due alfieri per il nero E quindi più teniamo chiusa la posizione Più siamo contenti in generale Ora dopo torre d1 quindi Il nero ha fatto e per d4 C per d4 Aprendo la posizione E semplicemente spostando la donna in e7 Ora gli alfieri lavorano un po' di più Anche se il bianco comunque dispone di questo centro E continua a difenderlo con la mossa torre 1 Torre 8 Un'altra ottima mossa E qui il bianco ha scelto una grande mossa pratica Nel senso che Ovviamente non ha fatto e5 D5 chiaramente non si può fare Per la torre in a1 Normalmente se ne abbiamo la possibilità Dovremmo riuscire comunque a mantenere Questo tipo di centro Per far sì che i pedoni controllino Tutte queste case In generale Quindi non appena spingiamo un pedone Come per esempio i5 Ovviamente la casa di 5 diventa debole Quindi l'alfiere h8 L'alfiere può andare in d5 E i nostri pezzi sarebbero un po' Come dire Limitati dai nostri stessi pedoni Come vedete qui il cavallo Non può saltare né in e5 né in d4 Per cui qui il bianco Ha fatto la mossa cavallo e5 Questa mossa mi è piaciuta molto Durante la partita Perché ora Se il nero fa alfiere per i5 D per i5 Devo dire che praticamente È molto molto pericoloso Prendere una decisione del genere Perché se mangiamo in e5 Il bianco fa alfiere b2 E questo alfiere è un mostro Ovviamente col pedone h6 Ci sono tutte idee Come mettere appunto la donna in c3 E creare queste batterie sulla diagonale Il computer si difende con a3 Cercando di combattere Questa idea del bianco Però il bianco può fare e6 Cercando comunque di aprire la diagonale Sì il nero può fare f6 Però praticamente È impossibile trovare queste mosse con il nero E comunque sarà molto più facile giocare con il bianco Quindi è normale Che il Che Vashjallagrav non abbia mangiato in e5 Abbia semplicemente fatto alfiere b5 Però qui dopo alfiere f4 Il bianco ha un bel controllo del centro Ha un forte cavallo in e5 Il suo centro è ancora presente Ha collegato finalmente le torri E la posizione del nero non è così semplice Infatti il nero ha sbagliato subito In maniera piuttosto grave E ha fatto c5 E qui dopo torre ab1 Si scopre che questo alfiere non è stabile E Non è così facile trovare una continuazione Per esempio se il nero fa alfiere c6 Possiamo mangiare Fare d5 E5 È chiaro I pedoni vanno avanti Non è una bella cosa da Da vedere con il nero Di conseguenza Invece di c5 Sarebbe stato meglio fare torre e6 In modo da fare c6 E avere un po' di solidità comunque Anche se il bianco qui dispone di una mossa molto forte Che è fare cavallo e f3 indietro E cercando poi di spingere questi pedoni Per esempio fare e5 Perché adesso l'alfiere è un po' lontano Per esempio se il nero fa una mossa neutra Com'è Diciamo Donna d7 Dopo e5 alfiere h8 Il fiere non può andare in d5 E possiamo creare delle minacce Possiamo per esempio fare cavallo g5 E sfruttare tutte queste case Scure e debole Però ok Il punto qui su cavallo f3 È che il nero non può fare torre per e4 E questo è di nuovo Molto molto difficile Da vedere in partita L'idea è che dopo torre per e4 Donna per e4 Il bianco dispone di torre e1 E la sua idea è che non può La sua donna non può essere cattolata Perché il bianco fa Fa scacco matto con torre per e8 Grazie di nuovo a questo pedone in h6 Quindi questo pedone in h6 Ci aiuta ad avere anche le idee Sull'ottava traversa E se il nero fa il fiere e2 Il bianco può semplicemente fare donna e2 E chiaramente tutta questa Tutta questa inchiodatura Non è Probabilmente il nero non riuscirà a salvarsi Ok quindi Torniamo alla partita Il nero ha fatto c5 Torre b1 E il nero ha fatto torre a5 Giocando in maniera ancora più roccambolesca Adesso i suoi pezzi sono Sono per aria Il bianco continua semplicemente con alfere e d2 Attaccando la torre e la posizione del nero è completamente persa Invece la grava ha proseguito con c per d4 Con l'idea di rifarsi almeno sul cavallo E qui per esempio il bianco poteva semplicemente spostare il cavallo E poi spostare la donna E la posizione del nero crolla E mangiamo una torre intera Non mangiamo solo un pezzo ma mangiamo una torre intera E sarebbe molto facile concretizzare questo vantaggio Invece dopo alfere per a5 Donna per a5 Alfiere c7 Il bianco comunque ha una posizione vincente Però con una sola qualità in meno Il nero forse riesce a creare qualcosa Donna g5 E donna c1 Anche qui comprensibile voler cambiare le donne Perché abbiamo materiali in più Ma la mossa più forte sarebbe stata alfiere f4 Con l'idea di cambiare dei pezzi E comunque di togliere un po' di coordinazione al nero Certo il nero può fare donna per h6 Ma dopo g3 Notiamo che questa donna è messa molto male E il bianco poi potrà fare a5 Computer dice che la posizione è completamente vinta per il bianco Umanamente non è così chiaro Perché il nero può ancora creare una specie di fortezza con questo alfiere in f6 Ma a quanto pare non sarà sufficiente Però devo dire che è difficile fare una mossa come alfiere f4 in partita Specialmente qui quando avevano più o meno un minuto a testa Quindi donna c1 Alfiere a6 Da parte del nero Cercando di coordinarsi Forse un'altra possibilità sarebbe stata alfiere c6 Tenendo tutti questi pezzi difesi Una tecnica molto comune Quella di mettere l'alfiere difeso dal pedone E il pedone difeso dall'alfiere Ma alfiere a6 Alfiere f4 Donna g4 E5 Molto normale Alfiere e7 E qui il bianco avrebbe dovuto fare e6 Cercando di sfruttare di nuovo questo pedone in h6 Che ci dà sempre queste idee Dell'ottava traversa della casa g7 debole Però qui il Carlsen ha fatto alfiere g3 Che è una mossa comunque logica Mantenendo la coordinazione Quindi Comunque durante tutta la partita Il bianco ha perso un sacco di occasioni Per ammazzare il nero Tutte queste varianti Per esempio La mossa sf per e6 Donna c7 Sarebbero devastanti Per il nero Perché Le minacce al bianco Sarebbero troppo forti Tutte queste minacce Legate al matto E alla debolezza E anche prima Il bianco poteva evitare Di entrare in queste complicazioni Dopotutto Giocando alfiere g3 Il nero ha fatto donna e6 E qui È successa un'altra cosa Pazzesca Nel senso che Carlsen ha perso per il tempo Non succede spesso Carlsen è un esperto Comunque Del gioco blitz E anche del gioco bullet È estremamente forte È veloce È preciso E qui Immaginate quindi Sul 2 a 0 In posizione dove Comunque qui Il bianco sta meglio Dopo donna e6 Che tra l'altro È un errore Ormai non ci stupiamo più Però Dopo donna e6 Per esempio Il bianco avrebbe potuto fare Donna di 1 Attaccando entrambi i pedoni E Avendo una Posizione migliore Però Comunque Dopo donna e6 C'erano diverse mosse Che davano al bianco Un'ottima posizione E perdendo per il tempo Quindi Carlsen è andato sul 2 a 1 Ha perso fiducia E da qui in poi È È crollato piano piano Finché Il francese Non ha avuto un vantaggio Enorme Come potrete vedere Forse C'è stata un po' di Di Suspense Alla fine Nel senso che Comunque Carlsen Da campione Che è quasi riuscito A ribaltare la situazione Ma Devo dire che Vascella Grave È stato veramente un signore Nel senso che Non ha fatto Tutte le cose Che magari altre persone fanno Cioè Far passare il tempo In modo da giocare Meno partite Quando si è in vantaggio E ha giocato Tutte le partite Anche abbandonando Magari In posizioni straperse Senza arrivare Fino al matto E giocando Anche l'ultima partita Per vincere Avendola vinta E conquistandosi Assolutamente Questa finale Quindi vedremo adesso Cosa succederà Nella finale Nakamura Vascella Grave E intanto Ci dispiace Per il campione Del mondo Che sicuramente Non era nel suo Elemento Non era il suo giorno Migliore Però sono sicuro Che si rifarà E magari si rifarà Anche contro Maxim Nel match Per il titolo mondiale Perché comunque Non dimentichiamoci Che Maxim È in testa Al torneo dei candidati E quindi Vedremo un po' Che cosa Ci riserverà Il futuro Spero che questo video Vi sia piaciuto È stata Una partita Molto complicata Piena di spunti Riguardatela Con calma E mettete Un like al video Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Di Titan Chess E ci vediamo Prossimamente